registrazione live gamer ultra avermedia 1080p 120 3 l'obiettivo Gustav è il nostro I'm gonna bevele. I'm gonna bevele, Velltebe. Ahahahah! Ahahahah! Obiettivo Fritz conquistato! Abbiamo perso il controllo dell'obiettivo Bruno! 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 Trai un po' di più! Trai un po' di più! Trai un po' di più! Sì! 1, l'obiettivo 3 è perduto, soldati. 1, l'obiettivo 1 è perduto, soldati. 1, l'obiettivo 2 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 è perduto, soldati. 6, l'obiettivo 3 è perduto, soldati. Che tensione! Sì! Sì! Attenzione! Abbiamo perso l'obiettivo Cesar. Sì! 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 4 5 5 5 6 7 7 8 9 8 9 12 Grazie a tutti.